Grazie Presidente. Visto che il collega Sturni ha già approfondito e ha spiegato bene i motivi che ci spingono a questo impegno, vorrei sottolineare anche il lato dell'accessibilità anche alle persone con disabilità, ad esempio i cittadini ciechi che si trovano a non poter comprendere molto spesso il contenuto degli atti politici pubblicati sulla nostra pagina web e questo sistema di digitalizzazione delle nostre firme e quindi di pubblicazione dei documenti nel formato originale consentirebbe di utilizzare dei sintetizzatori vocali e quindi di poter comprenderne il contenuto e poter partecipare maggiormente in maniera ancora più attiva con l'attività politica di questa amministrazione. Quindi ancora una volta in un'ottica di accessibilità universale prendiamo questo impegno come una maggiore attenzione nei riguardi di tutti i cittadini e a collaborare con un'amministrazione quanto più trasparente. Grazie.